Buongiorno a tutti, pace a tutti, sì come diceva il pastore è vero, siamo sempre a casa e devo dire che veramente ci sentiamo molto accolti, sentiamo veramente la presenza di Dio che è la cosa principale nella nostra vita e sapere che Dio ci accompagna con la sua presenza in ogni luogo in cui noi andiamo, dal nord al sud, è una benedizione per la nostra vita. Sì, io mi chiamo Jessica, sono appunto la moglie di Tesi e siamo qui diciamo come missionari in un certo senso perché noi amiamo insomma anche poter incoraggiare quando ci viene chiesto insomma anche le realtà, le varie chiese. Io sono nata diciamo in una famiglia cristiana e quindi diciamo sono cresciuta come si suol dire in chiesa però abbiamo avuto le mie esperienze sia da diciamo da giovane, da adolescente ma anche poi nel nostro matrimonio abbiamo avuto diverse difficoltà che non voglio ripetere perché magari qualcuno già conosce però quando noi ci siamo sposati siamo sposati da circa sei anni e quando ci siamo sposati abbiamo creato Tesi oltre a cantare è anche un'artista, disegna e quindi abbiamo creato dei quadri, li abbiamo creati noi nella nostra camera da letto e abbiamo scelto dei versetti che ci stavano veramente a cuore e quello che io ho scelto è stato proprio questo anche come augurio per la nostra famiglia e che voglio trasmettere anche alla vostra famiglia. Quando la parola di Dio dice guardate gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il padre vostro celeste li nutre, non valete voi molto più di loro e questo verso mi ha molto incoraggiato perché oltre ad avere un valore Dio si prende cura della nostra vita, Dio si prende cura della nostra casa in ogni area della nostra vita e questo è l'incoraggiamento che voglio trasmettere questa mattina che noi siamo la pupilla del suo occhio, quindi siamo importanti per lui perché abbiamo un valore che lui stesso ci ha affidato, che Dio ci benedica. Alleluia Adesso capite perché sono sempre felice con una moglie così Alleluia Pastore è vero quando mio suocere è venuto qua e è rimasto molto colpito Tant'è che due domeniche dopo ci siamo ritrovati questo stesso pulpito e questo stesso tavolino Davvero non sto scherzando Credo che sarebbe arrivata la stessa domenica ma i tempi di consegna erano quelli Alleluia abbiamo cantato un canto che mi ha toccato molto Possiamo fare un applauso al gruppo Lode Un gruppo meraviglioso, davvero, davvero unto Un po' ne capisco di Lode, quindi permettetemelo di dirlo da una persona che fa parte in gruppo di Lode Ma è davvero come sentirsi a casa Oggi in questi giorni ci siamo sentiti davvero a casa Grazie anche Alessio e Martina Oggi insieme a Giorgio ci hanno portato pure a fare una colazione meravigliosa Sono un uomo di carne, sono un uomo di carne e di pasta, di dolci Sono un uomo di... Però abbiamo cantato un canto che mi tocca sempre Non c'è luogo più alto della presenza di Dio Non c'è palco più grande, non c'è livello lavorativo più grande che possiamo raggiungere su questa terra Non c'è posizione politica più alta che possiamo raggiungere su questa terra Il luogo più alto che possiamo raggiungere è sempre ai piedi di Gesù Cristo E' sempre prostrato in adorazione alla sua presenza Il giorno in cui ho scoperto cos'è la vera adorazione E' stato il giorno in cui ho iniziato a non vivere più una religione Ma a vivere una relazione quotidiana con Gesù Cristo Ed è diventato il giorno in cui ho iniziato ad aver bisogno ogni singola mattina Di stare alla sua presenza Anche nei momenti in cui ero distrutto E forse ho passato qualche minuto, qualche ora in silenzio totalmente Perché non sapevo neanche cosa dire nei momenti di estrema difficoltà Ma restare comunque e sempre alla sua presenza Restare prostrati alla sua presenza Credo che sia la posizione più bella che un essere umano possa mantenere Durante tutto il corso della sua vita E se faccio una preghiera a Dio è questo Signore, fai che il giorno in cui tu tornerai O il giorno in cui tu mi chiamerai a te Io possa essere sempre prostrato alla tua presenza Come quella donna che lavava i piedi di Cristo con le sue lacrime E che asciugava i suoi piedi con i suoi capelli In quell'atto di estrema adorazione Che tutti noi possiamo costantemente rimanere lì Alla sua presenza Perché alla sua presenza c'è guarigione, cari fratelli Perché possiamo predicare, possiamo cantare, possiamo scrivere tanti Ma non c'è niente che possa guarirci come la sua presenza dolce Non c'è niente che possa darci potenza e forza come la sua presenza Alleluia Questa mattina davvero sono particolarmente toccato e grato Grazie pastore Nicola per l'accoglienza Grazie per avere un giovane qui Forse la vostra chiesa lo dà per scontato Perché insomma ho visto diversi giovani qui sul palco a predicare Ma non è per niente qualcosa di scontato In mia moglie da quando abbiamo avuto questa esperienza della malattia Abbiamo avuto l'occasione di girare diverse chiese E possiamo dire che non è sempre così E quindi è bello poter vedere una chiesa che come ha detto il pastore Non adatta il Vangelo Non cambia il Vangelo Ma adatta la forma La forma per raggiungere più persone possibili Quindi grazie pastore E perché dire io voglio portare saluti Già l'ha portato il pastore Del mio pastore, del mio suocero Il mio pastore è il mio pastore E il mio suocero E il mio padre spirituale Ed è il presidente del movimento della mia chiesa Quindi insomma c'è un po' di No però è una persona meravigliosa Mi fa sentire sempre un figlio Ed è quello che sono Pensate che lui ha iniziato a farmi predicare Quando avevo 24 anni E io di predicare non mi passava manco per la testa Cioè io sognavo solo suonare Fatemi suonare, suonare, suonare Mi ricordo quel giorno avevo 24 anni Dopo una tenda che mi ha messo in piazza Lui venne da me e mi disse Tesi Domenica, tra due domeniche Due o tre domeniche Predicherai tu E io faccio così E poi realizzo Perché noi uomini Parlo per me Io dico sì Poi dopo realizzo Cioè dopo ascolto davvero Mia moglie mi dice Ma hai sentito? Sì, sì, sì E poi dopo due giorni Ho metabolizzato quello che lei mi ha detto E quindi gli faccio Ma di domenica? Fa sì, sì, sì Ma al culto di domenica mattina? Sì, sì, sì Va bene È stata un'esperienza fantastica Ha creduto in me tantissimo Lui è un pastore che come il vostro Punta tantissimo sui giovani Quest'anno l'abbiamo avuto al ritiro Dei nostri giovani Ci teniamo davvero tanto Che lui e Anna fossero con i nostri giovani Tre giorni Due o tre giorni? Tre giorni Insieme ai nostri giovani Si è abbracciati tutti È stato proprio un padre per loro E la nostra chiesa Come diverse chiese Ha diversi giovani che non hanno padre Che sono senza padre E per loro il nostro pastore è un padre Credo che lo sia anche per voi E mentre Mentre mi preparavo per questo ritiro Che era dedicato al tema di Neemia No? Costruire e combattere Mi sono riletto Esdra e Neemia Ci sono due versi Due versi che non avranno molto senso Forse quando li leggiamo Ma in realtà Mi hanno colpito tantissimo E hanno iniziato a maturare in me Questo messaggio che oggi porterò qui Si trova in Esdra 2 Voglio leggere due versetti Che sono il versetto 7 e il versetto 31 Leggo un attimo i primi due versetti Questi sono gli uomini della provincia Che tornarono dalla prigione Quelli che Nabucodonosor, re di Babilonia Aveva portato schiavi a Babilonia Che tornarono a Gerusalemme e in Giuda Ognuno nella sua città E così inizia un po' Numero degli uomini del popolo di Israele E qui inizia un elenco lunghissimo di nomi Che potrebbero essere utili a coppie che aspettano Sono in dolce attesa Potete scegliere uno di questi nomi Controllate prima però il significato dei nomi Versetto 7 Figli di Elam 1254 Versetto 31 Figli di un altro Elam 1254 Amen Signore benedici la lettura della tua parola Benedici la mia esposizione della tua parola Signore ti chiedo di guidare la mia bocca Fa che i pensieri e la meditazione del mio cuore E le parole della mia bocca Siano accettevole davanti a te Nel nome di Gesù Amen Amen C'era un Elam Che aveva 1254 uomini E 24 versetti dopo Ci viene detto che c'era Un altro Elam Che non ne aveva di meno Non ne aveva di più Aveva lo stesso numero di uomini Del primo Elam Però Viene messo 24 versetti dopo Con una parola Che quando l'ho letta Che quando l'ho letta mi ha fatto male Un altro Elam Un altro Elam Quante volte ci siamo sentiti un altro Non la prima scelta Non la prima scelta ma un altro Mi sento un membro Mi sento un membro della chiesa Ma mi sento un altro membro della chiesa Non mi sento il numero uno In altre parole Ma mi sento il numero due Ora io sono certo che ci sia sicuramente una motivazione per cui questo Elam sia stato messo 24 versetti dopo Sono certo che ci sia Ma quando siamo feriti E quando siamo delusi dalla vita Anche le motivazioni più ragionevoli non bastano Noi ci sentiamo un altro Oggi io vorrei parlare a tutti coloro che si sentono un altro Che si sentono il numero due Che non si sentono il numero uno Viviamo in una società in cui Enfatizziamo il numero uno Diamo i premi al numero uno E al numero due? Al numero due chi ci pensa? A coloro che sono i secondi chi ci pensa? Io mi ricordo Non so se avete presente Da poco ci sono state le Olimpiadi Ed è bellissimo Io amo tantissimo guardare le Olimpiadi Ed è bello vedere il numero uno Il primo in classifica C'è il podio Primo, secondo e terzo C'è il podio Il primo è quello celebrato Quello più felice di tutti Nessuno più felice del primo Poi c'è il terzo che è felice Perché in qualche modo ce l'ha fatto È arrivato al podio E poi c'è il numero due Che è lì in mezzo Che guarda il primo Guarda il terzo Non è né il primo Né il terzo E è lì Se si fosse impegnato di più Questo due sarebbe arrivato l'uno Questa è una grande problematica Nella vita dei numeri due E il tempo passa Io facevo tanto sport prima Facevo anche crossfit Come fa il vostro pastore E il tempo passa E non sono più prestante come una volta Anche per la malattia Ma anche perché ho 32 anni Voi dite siete giovani Sei giovane È vero Ma sono anche responsabili dei giovani E i miei giovani Non mancano una sola volta Per farmi sentire vecchio Una volta lo dico So che ci seguirà sicuramente Lo dico ogni volta Ma questa ragazza Che tre anni fa Ha detto questa frase Dovrà pagare tutto il resto Della sua vita Per aver detto questa frase Una volta viene da me E mi dice Tesi ho visto un film Dei tuoi tempi A parte che è stata Una pugnalata al cuore Potente Avevo 28 anni ancora Come ti permetti E poi il film In questione Era ritorno al futuro Che è degli anni 80 Io negli anni 80 Non c'ero Non c'ero E il tempo passa comunque Mi ricordo quando ero piccolo Vedevo i miei amichetti I miei amici E qualcuno veniva Con la gamba ingessata Zoppicando Cos'è successo? E con lo skateboard Sono caduto Mi sono fatto male Un altro amico Magari anche lui Zoppicava col gesso Così Cosa hai fatto? E con la moto Ho fatto un salto Così E poi magari Vedevo i fratelli Un po' più in età Uno che zoppicava Diceva Cos'è successo fratello? Ho dormito male Mamma mia Una sorella Che si teneva così Che è successo sorella? Ho starnutito E che ho detto Ma che si può stare male Per starnutire così? Però è vero Alla fine Si passa Passa il tempo E noi ad un certo punto Dal numero uno Finiamo ad essere Il numero due E ci sentiamo come Questo altro Elam E non è bello Non è piacevole Ci sono tre cose Che ho considerato Nell'essere il numero due L'essere il numero due Mi fa sentire Almeno personalmente Credo che Di essere in compagnia Non abbastanza Ci siamo mai sentiti Non abbastanza? Ci siamo mai sentiti Un figlio Che non fa abbastanza? Una moglie che non fa abbastanza Per il proprio marito O un marito Che non fa abbastanza Per la propria moglie Ci sono cose Che fanno sorridere Vero? Però poi ci sono anche Dinamiche davvero Molto difficili Abbiamo parlato Con giovani Sposati da poco Che piangendo Dicevano Io sto cercando Di fare tutto Per mia moglie Ma sembra Che non basti mai Sembra che non sia Mai sufficiente Quello che sto facendo Parlare con i giovani Che hanno diversi fratelli E vivere la costante comparazione Non sei come tuo fratello Perché non sei come tuo fratello? Perché non sei come tua sorella? E vuoi o non vuoi Alla fine Ci troviamo Nella stessa posizione con Dio Io mi sono trovato così Io sono figlio di cristiani Non so quanti sono figli di cristiani E purtroppo Sono trovato ad odiare Deuteronomio 28 Quando dice Tu sarai la testa E non la coda Questo cosa vuol dire? Che devi prendere sempre dieci Ed è sicuramente Un verso che Dito ai vostri figli Nel modo giusto È importante Poter spronare Sicuramente Vedo il cuore Dei miei genitori Soprattutto di mia madre Nel volermi dire I tesi Tu puoi fare di più Assolutamente Tra l'altro qui c'è La mia nonna Masina Che io chiamo nonna Cresciuto a Belpasso E sicuramente ci vuole Però ho odiato quel versetto Perché mamma mia La testa non la coda Il primo e non l'ultimo Ma perché devo essere sempre La testa? Perché devo essere sempre così? E ci sentiamo non abbastanza E sapete che questa cosa Me la sono portata con Dio E il momento in cui A 22 anni Dio ha risvegliato il mio cuore Ho iniziato a predicare L'Evangelo nell'università Ho iniziato a fare un po' il pazzo Facevo un po' il pazzo Salivo sulla cattedra Dell'università Quando c'era la professoressa Dicevo Il Signore ha cambiato la mia vita Ha trasformato la mia vita Se volete voi ridete Ma i ragazzi lì non ridevano Sì ridevano Ma per altri motivi ridevano Credo di aver portato Più persone lontano da Dio Sincero Che è vicino a Dio Urlando così in questa maniera Nelle metropolitane Urlavo Non so se avete visto Con i giovani Noi andiamo in metropolitana E un conto è quando lo fai Con 80 giovani Tutti belli coordinati In quanto quando Un ragazzo si sveglia Inizia a urlare Gesù ha salvato la mia vita Ma Gesù davvero Davvero aveva cambiato la mia vita Ma ad un certo punto Mi sono ritrovato A svegliarmi presto Alle 6 del mattino Iniziare a pregare E non sentire che era abbastanza Allora mi si svegliava Ancora prima Alle 5 e mezza E sentivo che non era abbastanza Alle 5 e non era abbastanza Alle 4 e mezza Mi sono svegliato A pregare A intercedere A leggere la Bibbia E non era abbastanza Arrivavo al lavoro E mi addormentavo Sulla tastiera del lavoro E dicevo Signore ma io sto facendo questo per te Perché non mi sento forte Perché mi sento così deboli E il Signore mi diceva Ma io non ti ho chiesto tutto questo Io ti ho chiesto di provare piacere Alla mia presenza In qualche modo Misuravo Dio E pensavo che Dio misurasse me Come gli esseri umani misurano Vi ricordate Samuele Quando doveva cercare Il prossimo re di Israele Ha guardato subito l'altezza E noi Fratelli Siamo così Guardiamo il cantante più bello Il cantante più bravo Guardiamo tutte queste cose qua E pensiamo che Dio Sia così Ma oggi io ti voglio dire una cosa Stamattina Mentre dormivi E russavi Dio prendeva piacere Nel guardarti Amen Ci credi questo? Ci crediamo? Dio era contento di guardarti Non stavi facendo niente Io ho una nipotina Che adoro con tutto il mio cuore Ovviamente sono il suo zio preferito E Ho delle prove che lo dicono Lo zio è suo Questo è quello che dice lei E a tante volte Mi ricordo che Alcune volte In maniera molto stanca Arrivavo alla presenza di Dio E mi addormentavo E dicevo Signore perdonami Mamma mia Che cosa ti ho fatto? Un giorno Mentre stavo prendendo mia nipotina E dormiva Si addormentava Nelle braccia del suo zio preferito Si addormentava E Dio mi diceva Tu sei contento Quando lei dorme? E dico sì E neanche io Trovo male Se tu addormenti una volta Anzi Sentivo proprio Il cuore di Dio Di essere felice Che nonostante Nonostante sono stanco Gli ho voluto dedicare L'ultimo momento Della mia giornata Quante volte Cerchiamo di memorizzare La parola di Dio Sicuramente è una buona Una buona Abitudine Io ho una pessima memoria Ho letto la Bibbia Più volte Non mi ricordo mai Versetti a memoria Però sapete una cosa Non mi ricordo Cosa ieri Ho mangiato per colazione Però sta nutrendo ancora Il mio corpo La colazione che ho mangiato Quindi a volte Magari non ci ricordiamo Perfettamente Quello che abbiamo letto Però Quello che abbiamo letto Continua a nutrire La nostra vita Romani 7 Dal versetto 14 Dice Noi sappiamo infatti Che la legge È spirituale Ma io sono carnale Venduto Schiavo al peccato Perché io Non mi approvo Quello che faccio Poiché io non faccio Quello che voglio Ma faccio quello che odio Ora Se faccio quello Che non voglio Ammetto che la legge È buona Allora non sono più Io che lo faccio Ma è il peccato Che abita in me Di fatti Io So che in me Vale a dire Nella mia carne Non abita alcun bene Poiché in me Si trova il volere Ma non il modo Di compiere Perché il bene Che voglio Non lo faccio Ma il male Che non voglio Quello faccio Ora Se ciò che non voglio È quello che faccio Non sono più io Che lo compio Ma è il peccato Che abita in me Io mi trovo dunque Sotto questa legge Che volendo fare il bene Il male Si trova In me Quante volte Ci troviamo così Voglio fare del bene Ma non riesco Quello che faccio Quello che vorrei fare Non lo faccio Questo dice Paolo Quante volte Noi ci troviamo In questa situazione A metà In questo numero due In questo posto A metà Se c'è una cosa Che io Non sopporto Nel prendere l'aereo È il posto a metà Perché non sei Né davanti al finestrino Né davanti alla via d'uscita E tante volte Noi ci troviamo In questo numero due Nel quale noi Abbiamo creduto Gesù Abbiamo iniziato Il periodo Della nostra salvezza L'inizio Del nostro cammino È stato meraviglioso È stato bellissimo Ma poi vediamo L'uomo e la donna Che dovremmo essere E capiamo che non siamo Quell'uomo e quella donna E allora cadiamo In depressione Ci sentiamo non abbastanza Pensiamo che Dio Non potrebbe mai usare Una persona così Perché noi sappiamo Cosa pensiamo Nella nostra mente Noi conosciamo Il nostro carattere E vediamo L'inizio della nostra vita E vediamo Quello che dovremmo essere E cadiamo In questo stress In quest'ansia Da prestazione Dove pensiamo Che dobbiamo essere Perfetti Per poter piacere a Dio E allora cosa succede? Dio ci mette davanti a noi Delle situazioni Dove poter essere Degli strumenti Nelle sue mani E noi diciamo No Perché? Perché credo Di non essere abbastanza Perché dovrei essere Più puro Perché dovrei leggere Di più Perché dovrei pregare Di più E tante volte Dio ci usa E ci vuole usare Ma noi siamo I primi persone Che fermiamo Noi stessi Non so se Vi è mai capitato Oggi Mentre ero lì Dicevo Signore Io dovrei solo suonare Perché sono qui Con un microfono A predicare I combattimenti Vengono sempre Io non credo Che ci sia un momento In cui finisce E ci sentiamo A po' Sì Sono il predicatore Migliore d'Italia Vado su E senza Alcun timore Predico la parola di Dio Io non credo Che sia così Quindi fratelli e sorelle Mettiamoci l'anima in pace Perché finché Siamo su questa terra Ci sentiremo Sempre inadeguati Sempre non all'altezza Ma la cosa è meravigliosa È che Dio Sceglierà sempre Di usarsi di noi Finché noi Desideriamo Fare la sua volontà Finché noi Mettiamo in pratica La sua parola Finché noi Ci sforziamo Con tutto il cuore Di mettere in pratica La sua parola Questa considerazione Potrebbe mettere In crisi qualcuno E dire Ah allora posso fare Quello che voglio Quindi va bene Sono imperfetto Sapete che questa attitudine qua Già ci permette Non ci permette Di essere avvicini a Dio Perché il servo di Dio L'uomo di Dio Il figlio di Dio È colui che Non è che davanti alla scelta Dice Allora posso fare di meno No È colui che davanti alla scelta Dice Io mi impegnerò Con tutto il mio cuore Di fare di più Di dare di più a Dio Ma non perché Devo Perché io amo Dio Io amo Dio Dico sempre una cosa Ai miei ragazzi Io amo mia moglie E non tradisco mia moglie Non perché ho paura di lei Anche se alcune volte Mi fa paura No scherzo Non è vero Non perché ho paura di lei O perché La Bibbia mi dice Di non farlo Non è il primo motivo Sono sincero Non tradisco mia moglie Perché la amo No? E questo è il primo motivo Poi sicuramente Perché la Bibbia dice Di non farlo Perché la legge dice Eccetera 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 Ma il primo motivo È per amore Ed ecco che Quando noi facciamo Le cose per amore Anche se Sembra che non siamo Abbastanza Possiamo continuare A sentire Lo Spirito Santo Che ci dice Io ti ho scelto Io ti ho chiamato Per nome Tu sei un sacerdote Tu sei un re Amen La seconda cosa Che mi fa sentire Questo posto in mezzo È quando Dio Non so se mi è capitato Dio vi dà una promessa Dio ci dà una promessa Però ancora Ne la realizza No? In Isaia 53 C'è scritto Che per le sue Lividure Noi siamo stati guariti Io ci credo Con tutto il cuore Ieri ho raccontato La mia testimonianza Ho avuto una dissecazione Orteca A 26 anni Ho scoperto Dio una malattia Stavo per morire Sono morto Per 40 minuti In bilico Tra la vita e la morte Per tre giorni Sono svegliato Il terzo giorno Dio ha salvato La mia vita Ma c'è una cosa Che magari Forse alcune volte Sfugge Perché molti mi dicono Che bello Che bello È bello Ma io la malattia Secondo me Dice ce l'ho ancora Tutta la mia orta Ancora oggi È dissecata Le mie carotidi Ancora oggi Sono lacerate All'interno Sono ancora in attesa Dio mi ha dato La promessa Ma sono ancora in attesa Di vederla realizzata Perché tac Dopo tac Secondo quello La moglie Per poter servire Dio Dobbiamo aspettare Di ricevere il figlio Per servire Dio O mentre aspettiamo Noi lo serviamo Oggi sono qua Soltanto perché Credo fondamentalmente Con tutto il mio cuore Che anche da malato Secondo quello Che dicono i medici Io posso essere Uno strumento Nelle mani di Dio Che anche Mentre qualcuno Qui sta sperimentando Un lutto Un lutto Una separazione Da una persona cara Puoi e possiamo Essere degli strumenti Nelle mani di Dio Dio usa persone Rotte Questo è quello Che ho visto Dio usa persone Che non hanno tutto Ok davanti a loro Persone che davvero Letteralmente Usano la parola di Dio Come una lampada Al proprio piede Non un faro Che fa vedere Tutto il cammino Persone che non sono Incerte per il loro futuro Ma sono certe Dell'oggi E ciò che sappiamo Che oggi Dio ha provveduto Il nostro pane quotidiano Amen Perché questo è quello Che Gesù ci insegna Non ci insegna Di chiedere Il pane mensile Il pane annuale Ci chiede Di chiedere a Dio Il pane quotidiano E oggi Io sono in vita Sì Sono in vita Tu sei in vita Controllati il polso Controllati Sei in vita Allora siamo strumenti Nelle sue mani Allora siamo abilitati A servirlo Nonostante Ciò che ci manca Perché purtroppo Come esseri umani Siamo sempre portati A vedere ciò che ci manca Vero? Non riusciamo a vedere Che abbiamo una chiesa Meravigliosa Mentre ci sono persone Che ho conosciuto Personalmente Che combattono Nella situazione In cui sono Che forse Non abbiamo Una famiglia perfetta Ma abbiamo Una chiesa Meravigliosa Abbiamo persone Che ci guardano Negli occhi Ne ci chiedono Come stai Mentre ci sono persone Che nella nostra società Sono invisibili Nessuno li vede Nessuno li guarda Alleluia Quando ricevi una promessa Ma non vedi ancora Il miracolo Ho scoperto Che il vero miracolo Non è l'esaudimento Della richiesta Ma è la crescita Della mia fede Perché nell'attesa La fede cresce Nell'attesa Tu continui a dire No Dio è buono No Dio è buono Io voglio avere fede Io voglio avere fede Ogni singolo giorno Prego Signore Guarisci il mio corpo Ma sia fatta La tua volontà Non voglio aspettare Un solo minuto Non voglio togliere Alle persone che incontro La possibilità Di evangelizzare Parlerò a chiunque Ho davanti a me Di Dio Nonostante La malattia E non serve molto Per evangelizzare Fratelli Io amo le scarpe Alcune volte Mi capita proprio Di fare questo Che belle scarpe Che hai Perché non vieni in chiesa Che belle scarpe Ma sai che Gesù ti ama E da lì si inizia Alcune volte Proprio le nostre Debolezze Sono i punti Di nostra forza Io qui ho una cicatrice Che si vede Poco poco Alcune volte Quando ho una camicia Un po' aperta Si vede Sapete Che la mia cicatrice Ha predicato più di me Stasera parlerò Forse di questo Le nostre cicatrice Ciò che ci manca Le cose che non vanno bene Alcune volte Predicano ancora più di noi Perché quando parliamo Le persone capiscono Che quello che stiamo dicendo Lo stiamo dicendo davvero Perché ci crediamo davvero Non perché abbiamo fatto La scuola dominicale Punto e basta Ma perché abbiamo Sperimentato e visto Durante l'attesa Abramo Aspettò 25 anni Giuseppe 13 anni Mosè 40 anni Davide 22 anni E poi chi? Gesù Il nostro Gesù Ha aspettato 30 anni 30 anni a fare il faligname Mentre lui poteva fare Chissà che cosa E l'abbiamo visto Cosa poteva fare Alleluia Deuteronomio 7 9 dice Riconosce È colui Versetto 22 Versetto 22-26 Gli occhi Perché i miracoli Su questa terra Non sono funzionali A loro stessi Il pastore Quando è venuto A Milano Ha detto una cosa In cui credo Profondamente Perché lo sto Vivendo sulla mia vita Il miracolo È solo un gesto di Gesù Di Dio Per mostrarci che c'è molto di più Perché anche se Gesù Mi guarisse oggi Io comunque Dovrò morire Voglio dire Lazzaro non è che Sta vivendo ancora oggi In Israele Da qualche parte Cioè è morto di nuovo Anche se Gesù Oggi guarisse Il nostro corpo Comunque La morte La dovremmo sperimentare Questo vuol dire Che ogni singola guarigione Che Gesù ha fatto Possiamo trovare Un significato Che va al di là Della semplice guarigione Ed è bello vedere Come qui C'è un secondo tocco Qui C'è qualcosa di più È bello vedere Come Gesù Utilizza metodi Diversi Proprio per farci capire Perché noi Ci conosciamo Come siamo esseri umani Vero Gesù ci ha regalato Una preghiera E ci sono persone Che ripetono solo Quella preghiera Come unica forma Di preghiera Immaginate se L'unico gesto Di Gesù Fosse sputare Negli occhi Di questo cieco Io e te Andremo in giro Per Catania A sputare Negli occhi Dei ciechi È vero È vero o no È così Perché come esseri umani Abbiamo un limite Prendiamo soltanto il metodo E non capriamo Che invece Dietro al metodo C'è il maestro E noi dobbiamo dipendere Dal maestro Non dal metodo Amen E quindi Lui fa qualcosa E cerca ogni tanto Di confonderci un po' Le idee Per farci capire Che non è il metodo Sono io Gesù Cristo Che può dare guarigione Allora Gesù tocca Questo uomo Per la prima volta E mentre altre volte Guarisce all'istante Anche più di una malattia Come il sordo muto In un solo In un solo tocco Il sordo muco Muto Non il sordo muco Il sordo muto Ricupera sia l'udito Che la parola In questo caso Dio fa qualcosa di più Si prende più tempo Ma vi è mai capitato E io già rispondo di sì Di pensare che Gesù Forse si stia prendendo Un po' troppo tempo Eh? Sì o no? Signore Gesù Ho capito Che hai tante cose da fare Questo mi è capitato Tante volte di dirglielo Ma così tanto tempo Signore Però quanti hanno sperimentato Che nel momento In cui arriva la risposta Realizzi che non poteva Esserci un momento Migliore Che quell'attesa Ne valsa la pena E Gesù si prende Un po' di tempo Avviene un miracolo Ma non avviene Un miracolo totale Amo il fatto che Gesù Faccia una domanda Quell'uomo era cieco Quindi per lui Il mondo poteva essere Esattamente così No? Ma Gesù gli chiede Sapendo già le risposte Perché Gesù fa così Quando fa una domanda È come mia moglie Avrò una parentesi Mia moglie mi chiede Dove hai messo le chiavi? Quando mia moglie mi chiede Dove hai messo le chiavi? È perché lei sa già Che io non le trovo E sa già dove sono Non so se capita Capita solo a voi Solo a me capita No Ok I mariti fanno Dei gesti tipo così Perché hanno le moglie accanto No? Saggi Saggi Gesù Fa lo stesso Gesù pone la domanda Sapendo già Che mancava qualcosa Perché pone la domanda? Perché quell'uomo Doveva dire Si voglio di più C'è di più Oggi quanti Però avere lo stesso cuore Di quest'uomo E dire signore Grazie Perché lui dice Io vedo Signore In riconoscenza Io vedo Però vedo gli uomini Come alberi E allora Dio viene toccato Da questo cuore E da un altro Tocco Alleluia Posso invitare i ragazzi A venire su Ragazzi della Lode Oggi ci troviamo davanti A questo numero due Questo numero due Che ci fa sentire Forse che non siamo I numeri uno Forse che c'è qualcosa Che manca Nella nostra vita E forse che abbiamo bisogno Di questo tocco C'è qualcuno oggi qui Che ha avuto un forte incontro Con Dio Ma senti ancora Che manca qualcosa E senti le testimonianze Delle altre persone Testimonianze Che hanno segnato La tua vita Testimonianze Che dicono Ho incontrato Gesù Ho sentito qualcosa di forte Tu forse qualcosa di forte Non l'hai sentito Forse il primo giorno In cui hai accettato Gesù Non era ancora tutto chiaro O ancora manca qualcosa Oggi Gesù L'uomo di Galilea È qui Ed è pronto a toccarti Un'altra volta Ricordate Naman Sette tuffie È dovuto fare Ci sono cose Che prendono tempo C'è una poesia Di una scrittrice Che si chiama Portia Nelson E scrive La parafrosa Una breve poesia Dove dice questo Esco da casa mia Prendo una via Non vedo un buco E ci cado dentro Non è colpa mia Il giorno dopo Esco di casa Prendo una via Mi dimentico del buco Ci cado dentro Forse potevo stare più attenta Terzo giorno Esco di casa Prendo una via Cado dentro il buco C'è qualcosa Che non va Sta diventando un'abitudine Quinto giorno Esco di casa Prendo un'altra via Ci sono cose Che hanno bisogno Di tempo Ci sono situazioni Che hanno bisogno Di più incontri Con Gesù Tutti noi Tutti noi Vogliamo essere Numero uno Tutti noi Sogniamo di essere Numero uno Ma il numero uno C'è già Il numero uno C'è già Posso suggerire anzi Che forse conviene Essere numero due Sapete Non è il primo Adamo Che ci ha salvato È il secondo Adamo Non è il primo figlio Di Adamo Caino Ad aver avuto la benedizione È il secondo figlio Abele Non è il primo figlio Di Abramo Ismaele Ma è Isacco Il secondo figlio Ad aver editato La benedizione del padre Non è Esau Ma è il secondo figlio Giacobbe Non è il primo figlio Di Giuseppe Emanasse Ad aver avuto La doppia benedizione Ma il secondo figlio Efraim Non è il primo re Di Israele Ad aver avuto Il regno eterno Ma è Davide Non è il primo tempio Ad aver avuto La maggiore gloria Ma è il secondo tempio Non è il secondo testamento Quello completo Ma il Non è il primo testamento Il vecchio Quello completo Ma è il secondo testamento Non è il secondo Non è il primo uomo Della croce Nel terzo Ma qui il secondo Quello in mezzo Gesù Cristo E noi non stiamo aspettando La prima Gerusalemme Ma noi stiamo aspettando La seconda Gerusalemme E non è la prima nascita Che ci ha salvato Ma è la seconda nascita Che ci ha salvato Alleluia Alleluia Perché Gesù Cristo È il Signore per sempre Gesù Cristo È il nostro campione Gesù Cristo È colui Che ha preso La maledizione Dell'essere numero due L'ha preso su di sé E ci ha concesso La sua benedizione Gesù Cristo È colui Che ha preso La corona Di spine E oggi È venuto a darci Una corona Di gloria Alleluia Non c'è nulla di male Nell'essere due Secondi Ma Dobbiamo essere liberi Dal senso Di insufficienza Di non essere Abbastanza Dobbiamo Continuare Ad avere fede Nel frattempo In cui aspettiamo La realizzazione Delle nostre promesse E forse oggi Nonostante Dio Ci ha toccato una volta C'è bisogno Di un altro tocco Di un altro tocco Ci possiamo alzare in piedi Alleluia 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 Oggi Gesù Cristo È qui E se oggi Non ti senti Abbastanza Se oggi Nel periodo Di attesa Nel ricevere Questa promessa Stai vacillando Le tue ginocchia Stai vacillando Come anch'io Un miliardo Di volte E bisogno Di ricordare Tenere gli occhi Fissi Non sulla promessa Ma su colui Che ha fatto La promessa O se oggi C'è bisogno Di un altro tocco Che possa essere fisico Perché crediamo Nella guarigione Che possa essere emotivo Che possa essere Di una ferita Ricevuta tanto tempo Che continua A sanguinare Una mancanza Di perdono Forse tempo fa C'è qualcuno Nato Perché anch'io L'ho pensato Anch'io L'ho detto Però sono ancora qua Non per la mia forza D'animo Ma perché Dio È fedele Di un po' Sì An ça